e secondo me, secondo noi, non possiamo lasciare fuori da questa partita il Presidente Rocca. Non è possibile che non c'è un passaggio da casa a casa per chi è sfrattato, che non c'è un piano su larga scala operativo nella città, non è possibile che il futuro anche di chi vive in emergenza abitativa, nelle occupazioni, nei residence, sia appeso alla lista degli sgomberi. Sassini, Sassini, vieni a pescare con noi, si mangia il berbe. Ok. Vabbè, noi per il momento stiamo qua, poi vediamo. Vabbè, noi per la città, che paura che vi chiedo, oggi andiamo a fumare. L'avete fatto, l'avete fatto. Vabbè, noi per la città, che vi chiedo, oggi andiamo a fumare. La nostra casa è questa occupazione. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti.